Easy, Easy, EasyZip Come convertire Wave in OGG? Vai a EasyZip.com quindi fai clic su Converti, Audio, quindi naviga per convertire Wave in OGG. Fai clic su Seleziona FileWave da convertire per aprire il selettore file oppure trascina e rilascia il FileWave direttamente su EasyZip. Fai clic su Converti in OGG. Inizierà il processo di conversione che richiederà del tempo per essere completato. Fare clic su SalvaFailOGG per salvare il file OGG convertito nella cartella di destinazione selezionata. È così facile. Spero che aiuti. Clicca sul logo e iscriviti. Significherebbe molto per noi.